Ciao, sono Giorgia e oggi voglio dare un tocco di autunno alle mie finestre. Cominciamo! Ho preparato delle foglie da ritagliare. Ho preparato anche degli scogliattolini per dare un po' di allegria. Sto preparando dei pezzettini di scotch per attaccare le nostre decorazioni. Ora metterò le mie decorazioni a fantasia. Posso mettere le foglie giù per fare un tappeto di foglie oppure su per fare una pioggia di foglie. A presto! A presto! Il mio lavoro l'ho terminato, però potrei arricchirlo con altre foglioline, così almeno diventa più colorato. E tu le stai preparando le tue fogliorine? E questo? Tu l'hai già fatto il teorama d'autunno? Se non l'hai ancora fatto, guarda il video in cui ti spiego come l'ho fatto. Ciao! 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 Ciao!